Allora, è un po' di giorni che mi rompono sui social media, sulla pizza, crazy pizza, criticano tutta gente che l'ha mai mangiata. È come se io criticassi qualcuno e non lo conosco. Come fanno? Come? Tanti che non mi conoscono pensano a qualunque cosa. Allora, voglio dirvi che la pizza è una pizza eccezionale. La gente, noi siamo qui a Monaco, a Monaco non ci sono i baluba, ci sono gente che vive qui a Monaco, turisti che vengono a Monaco, con gente che viaggia, che conosce il mondo, eccetera, eccetera, che conosce le pizze di Napoli, di Mari, di Cuneo, di Viareggio. E tutti la trovano eccezionale. E senza lievito, molto vera, sta dritta, certo che sta dritta, perché se si approccia, come tutte le robe che si approcciano, non vanno bene, cretini. Allora, non si approccia questa, sta bella, dura, dritta. L'altra roba, questa pizzeria che voi chiamate pizzeria di Briatore, fa 300 coperti a sera, siamo overbooking, overbooking ve lo spiego, vuol dire che non ci abbiamo posto, prendiamo della gente in lista d'attesa che chiamiamo volta per volta. Abbiamo aperto Londra, hanno detto che è la miglior pizza che hanno mai mangiato, apriremo adesso, credo, una decina di pizzerie nel giro di dieci settimane, saranno pizzerie che fattoreranno più di 4 milioni di euro all'anno, e vi spiego una cosa, ragazzi.